Puoi imparare una riga dalla vittoria e un libro dalla sconfitta. Questo è il commento social che ha campeggiato sulla pagina Facebook della Magnolia Basket Campobasso dopo il K.O. di Bologna. Uno stop che non ha scombinato i piani del quintetto molisano consapevole di aver fatto visita ad una delle big del torneo. Coach Sabatelli sa quali sono i punti di forza della sua squadra, gioco all'insegna della corsa e della transazione, ma attenzione alla fase difensiva dove di Gregorio e compagne devono mantenere alta la concentrazione durante tutto l'arco del match. Domani sul parquet del Palavazieri arriva l'Empoli. I fiori d'acciaio dovranno misurarsi contro le Toscane, attualmente seconde in classifica con 6 punti. Anche la squadra di Cioni è inserita nella lista speciale delle big. L'Empoli ha delle individualità importanti per la categoria come Narviciute e la cieca Pocio Brasca, nonché di un'esterna del calibro di Brunelli, capace sinora di una media di 18,7 punti a partita, tutti terminali offensivi in grado di spostare l'equilibrio del match. Il quintetto, marchiato la molisana, è alla ricerca di un equilibrio casalingo. Squadra al completo rientrano a pieno regime anche di Gregorio e di Costanzo. Contro l'Empoli le molisane potranno contare anche sul sostegno del pubblico campobassano. Domani con palla due alle 18,30 al Palavazieri Magnolia Basket Campobasso contro Empoli. Arbitreranno Cosimo Schiena di Castellana Grotte e Donato Nonna di Casa Massima.